Stefania Trimboli, terzo anno qui a Campobasso, una squadra totalmente rivoluzionata? Sì, sicuramente una squadra nuova. Abbiamo mantenuto il nucleo delle italiane, le straniere tutte nuove, ma stiamo lavorando bene e al momento dopo il primo test sono molto contenta delle risposte. Una domanda sul personale, questa è la tua terza stagione a Campobasso, quanto sei stata vicina a salutare? Sono qui, quindi questo è l'importante. Sono molto contenta di aver rifirmato con Campobasso, quindi cercherò come ogni anno di dare il meglio e spero di poter aiutare la squadra ad arrivare il più in alto possibile. Questa è una squadra, come hai detto tu, rivoluzionata. Come la stai vedendo in questi giorni? Sicuramente rispetto all'anno scorso è una squadra molto più dinamica. Quest'anno vorremmo provare a portare un gioco un po' più veloce di transizione, e sicuramente con le caratteristiche delle ragazze nuove possiamo fare un bel basket. Ariadna Morrison è una giocatrice molto uno contro uno e poi c'è Pallas, che l'abbiamo visto anche l'anno scorso a Fenza, grandissima rimbalzista, molto atletica. Quindi è una squadra, come hai detto tu, che dovrebbe fare molta difesa e tanta transizione. Esatto, stiamo lavorando molto sulla difesa e Pallas ci dà molta solidità nell'area. Abbiamo Mima, che è una grande tiratrice, Morrison, che penetra e scarica per le compagne. Quindi direi che anche Nina Delic, che è completa, direi che siamo una squadra appunto dinamica. Senti, è un campionato che ogni anno vede il suo livello crescere ancora di più. Credo che quest'anno ne vedremo delle belle. Sì, quest'anno ne vedremo delle belle. Secondo me negli ultimi anni forse questo è il campionato un po' più equilibrato. Quindi si può vincere, si può perdere contro tutti. Cercheremo ovviamente di tenere il fattore campo, perché abbiamo un campo ostile e daremo tutto, come sempre.